Un pomeriggio di approfondimento sugli 800 anni del presepe. Ieri a Roma, presso la prestigiosa ed antica pontificia Università della Santa Cruce, si è tenuta un'importante manifestazione commemorativa dell'ottavo centenario dalla realizzazione del primo presepe, ad opera di San Francesco d'Assisi nella notte di Natale del 1223. Un convegno di spiritualità e di rievocazione storica moderato dal professor Martín, al quale hanno preso parte come relatori anche due cittadini torresi, il docente di liturgia Giuseppe Falanga e il maestro Aniello Gaudino, intervenuti sul significato teologico e sul senso artistico e contemporaneo della Divina Natività.